Le tendenze della moda della primavera-estate 2011 vengono presentate oggi venerdì 16 aprile 2010 presso il Palazzo del Turismo di Riccione nell'ambito di Riccione Preview. CNA Federmoda e il Comune di Riccione in collaborazione con Zumon Fashion Trends presentano il video e la mostra Trends. Roberto Corbelli, direttore artistico di Riccione Preview, nonché di Riccione Moda Italia, parliamo di questo video che è stato presentato oggi e della mostra che resterà allestita fino al 20 maggio. Come rispondono i giovani a queste iniziative? Direi molto bene, anche perché sono cose fatte con il loro linguaggio, un linguaggio ispirato a quelle che sono poi i videoclip, gli spot e comunque tutte le situazioni che i giovani quotidianamente tra internet e i contatti che hanno nel loro ambiente conoscono. Per cui usando il linguaggio dei giovani, i ritmi che i giovani utilizzano, usando gli stilemi che loro hanno per comunicare e riusciamo a trasmettere quelle che sono le emozioni e a trasmettere quello che saranno poi in previsione le tendenze del futuro e come poter utilizzare queste emozioni, queste situazioni che noi gli trasmettiamo per realizzare collezioni, realizzare visioni di quello che sarà il loro lavoro. Dietro c'è proprio un grande lavoro, infatti mantenete sempre rapporti stretti con le scuole di moda, nonché con le riviste specializzate. Sicuramente, ormai sono vent'anni che noi stiamo costruendo un percorso che aiuti i giovani a entrare nel mondo della moda tramite Riccione Moda Italia e le collaborazioni che noi mettiamo in piedi hanno consentito a tantissimi ragazzi di poter trovare un'occupazione nel nostro settore. Non solo come stilisti, perché ci sono tanti mestieri all'interno del mondo della moda, anche dal giornalista, dall'intervistatrice o dall'intervistatore specializzato nel segmento moda, al grafico, al creativo, al modellista, tanti tanti mestieri ci sono e tanti ne stanno nascendo perché la moda è in continua evoluzione, si stanno trasformando le occupazioni all'interno del mondo della moda e i giovani sono molto preparati a livello mentale per capire questa trasformazione. Abbiamo visto anche attraverso il video, vediamo attraverso questa mostra che la moda prende spunto da tanti settori, dall'architettura, la storia, l'arte, il mondo animale, la natura. Ma come si fa ad interpretare le tendenze a distanza di un anno? Ma diciamo che chi lavora all'interno del mondo della moda ha delle sensibilità molto sottili, riesce a percepire quelli che sono i cambiamenti socioculturali e dove sta andando la società. Lo riesce a percepire anche perché ci sono ambienti, situazioni. È un mondo molto vario, è molto frequentato da persone che sono in avanti, che hanno una visione prospettica della vita, per cui cercano sempre di guardare non al oggi, neanche al domani, ma al dopodomani. Quindi cercano di interpretare i segni che la nostra cultura attuale ci manifesta, a recepirli, interpretarli e ritrasferirli all'utente, che poi in questo caso sono le aziende, i giovani che devono occuparsi di moda, con dei segni, con delle emozioni che poi saranno quelle che la massa del pubblico avrà nel futuro. Siamo con Emilia Minichiello, che è caporedattrice della rivista Zoom on Fashion Trends, l'attestata che esiste ormai da 15 anni e attraverso la quale oggi è stato presentato questo video, Trends. Innanzitutto a chi si rivolge questa rivista? Allora, Zoom on Fashion Trends è un attestata che si rivolge agli addetti ai lavori, soprattutto. Quindi parliamo di creativi in generale, possono essere designer, stilisti, comunque chiunque abbia a che fare con un lavoro particolarmente creativo. Quindi è una rivista che cerca di dare spunti e stimoli creativi, di lavorare sull'immaginazione, ogni volta proprio affrontando una stagione. Quindi esce ogni sei mesi, si lega soprattutto alle stagioni della moda, quindi primavera, estate, autunno, inverno. E come un piccolo quaderno tendenze propone quattro temi, temi che devono servire proprio delle macro tendenze su cui poi lavorare. Maggiormente gli addetti ai lavori nell'ambito della moda e del tessile abbigliamento, però tra i nostri abbotati, essendo una rivista poi internazionale, viene distribuita in tutto il mondo, c'è di tutto. Ci sono designer, dalle automobili all'arredamento, quindi sicuramente creativi appunto in senso lato. Nell'ultimo numero della vostra rivista, appunto, presentate attraverso diversi temi le tendenze della primavera-estate 2011. Come vestiremo? Allora, noi abbiamo presentato questi quattro temi, queste quattro tendenze. È chiaro che la moda negli ultimi anni si sviluppa su più che quattro, su centinaia di tendenze. Abbiamo visto che la moda sta andando avanti su un percorso proprio, diciamo, multidirezionale, per cui c'è sempre un'offerta molto vasta, ci sono mille stili. Tutto sta all'utente, al soggetto, trovare il suo stile, cercare di interpretare di ogni moda, di ogni tendenza, quello che più si adatta alla propria personalità. Quindi questo negli ultimi anni è diventato l'aspetto proprio generico della moda. Presentando soltanto quattro tendenze, noi cerchiamo di dare proprio quattro direzioni, macro direzioni, per cui i temi che noi abbiamo presentato sono uno ispirato al mondo degli insetti, uno ispirato al mondo del classicismo, del neoclassicismo, inquinato però da elementi urbani, un altro ispirato invece all'unione tra l'etnico e il tribale da un lato e la fantascienza e il futuro dall'altro e l'ultimo ispirato al senso del tatto, quindi alle sensazioni tattili. È chiaro che in questi temi si possono trovare mille tendenze, perché nel tema insetti, per dire, io ho parlato di leggerezza, quindi possono essere capi estremamente leggeri, ispirati proprio alla trasparenza delle ali, delle farfalle, delle falene, ma possono essere anche magari linee più strutturate, più corazzate, quindi quello che noi proponiamo sono dei temi che poi vanno interpretati. Nel tema invece Space Tribe, per esempio, noi proponiamo una moda proiettata verso il futuro, però al tempo stesso che trae spunto da elementi primordiali, arcaici, quindi rettili, metallizzati, scaglie, questi aspetti qui. Nel tema touch c'è un po' di tutto, perché ci sono sensazioni tattili molto piacevoli, quindi leggerezza, chiffon, voile, anche qui aspetti vellutati, però ci sono anche magari delle sensazioni un pochino più forti, quindi magari materiali più croccanti, più stropicciati. E nel tema neoclassico c'è l'unione, abbiamo pensato a uno stile che unisce, uno stile classico tradizionale, tra virgolette, però anche qui dove entrano degli elementi molto moderni, e quindi spalmature, effetti lucidi, ecco questo è quello che noi proponiamo. Poi è chiaro che sta agli stilisti interpretare queste tendenze. Siamo con Antonio Franceschini, responsabile nazionale CNA Federmoda, che insieme al Comune di Riccione promuove Riccione Preview. Questo di oggi è solo la seconda iniziativa, ma ci sono tanti altri eventi in programma. Qual è lo scopo di Riccione Preview? Lo scopo di Riccione Preview è quello di dare un'opportunità ai giovani, alle imprese, di cogliere il momento della creatività come un'occasione, un'opportunità per svilupparsi. CNA Federmoda in questo senso ha accolto l'invito del Comune di Riccione per realizzare un progetto di ampio respiro che vuole portare quindi la creatività su questo territorio per creare un momento, una piattaforma dove le imprese possono confrontarsi con i giovani creativi, ma allo stesso tempo anche i giovani delle scuole possono avere l'opportunità di venire a vedere come sta evolvendo la tendenza e quali possono essere gli stimoli per il futuro. E proprio ai giovani creativi e alle imprese del settore è dedicata questa mostra che riguarda le nuove tendenze. Perché proprio a Riccione queste iniziative? Sicuramente a Riccione perché l'amministrazione comunale di Riccione è da sempre, da 20 anni che ha creduto in iniziative di questo genere, tant'è vero che a luglio avremo la ventesima edizione di Riccione Moda Italia, quindi come CNA Federmoda abbiamo trovato ovviamente su questo territorio una realtà disposta ad investire in questa direzione e per questo quindi è un'iniziativa come quella di oggi che vedrà fino al 20 di maggio, è stata una mostra sulle tendenze della primavera-estate 2011, vuole essere proprio un appuntamento che va in qualche modo, come dicevo prima, a consolidare una serie di iniziative per stimolare la creatività e supportare le imprese nella loro sfida economica. I prossimi appuntamenti di Riccione Preview da segnalare? Ma avremo sicuramente il 23 di aprile estremamente interessante a Villa Mussolini l'inaugurazione della mostra La Casa del Terzo Millennio dove porteremo diversi prodotti legati alla sostenibilità ambientale e il 24 aprile una sfilata di giovani creativi in fondo a Viale Ceccarini e questi sicuramente sono due appuntamenti da non perdere. E siamo con il sindaco di Riccione, l'amministrazione comunale promuove insieme a CNA Federmoda Riccione Preview, un segnale importante tenuto conto della situazione che attraversano anche le imprese del settore moda. Direi di sì, noi abbiamo cercato di coniugare il turismo con un legame forte col territorio, con le nostre imprese e creando anche un'opportunità, insomma, anche per imprese da fuori di fare di Riccione un loro punto di riferimento dove si possono misurare, dove si possono incontrare, confrontare, verificare con i prodotti, le tecnologie e quindi fare di Riccione insomma un punto di riferimento anche per le nuove tendenze. È una città che esprime questo dal punto di vista dei suoi valori, vediamo un po' di collegarlo ancora di più appunto con le imprese, col territorio e soprattutto col Made in Italy facendo di Riccione una città internazionale. Grazie. 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 Grazie.